Non ho nessuna intenzione di candidarmi a sindaco, così il vice sindaco di Capaccio, Nicola Ragni, smentisce pubblicamente una sua futura candidatura alla carica di primo cittadino. Devo smentire, dice Ragni, alcune voci che, con una certa insistenza, insinuano che io stia cercando adesioni per una mia futura candidatura a sindaco di Capaccio. Le voci, messe in giro ad arte, afferma Ragni, tendono a strumentalizzare la situazione politica in essere, cercando di creare dissensi all'interno della giunta e del consiglio comunale e soprattutto far deteriorare i rapporti tra me e il sindaco di Capaccio Italo Voza, in modo da portare a conseguenze non prevedibili. Fino a quando il candidato sindaco a Capaccio sarà Italo Voza, conclude Ragni, io sarò lealmente al suo fianco, come ho già fatto in questi anni. Il mio modo di comportarmi è questo, non ne conosco altri. Se poi Italo dovesse decidere diversamente si vedrà, ma sempre insieme e nella massima collaborazione e lealtà. Spero in questo modo di aver chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, il mio ruolo e di avere tappato la bocca agli speculatori politici ai quali dico di cercare altri argomenti più seri, non basati su chiacchiere, congetture e bugie.